E praticamente Dollmaker è stato completamente sdoganato in Esper, è stato fatto 4color, è stato fatto tutto ma una lista solida Mardu, io ancora non l'ho vista, allora voglio fare io, no? La versione Mardu è interessante più che altro per Crucius che ti va a prendere cose, Raddick stravince, e poi è forte Obliteration Bolt perché è un removal che esilia contro i Raddick avversari e contro Ratadabrick e le robe, quindi secondo me, ah per chi non sapesse come funziona, Dollmaker è 2-2-2, quando entra il campo di battaglia esilia un permanente non terra non token, non terra non token, anche dell'avversario, chi lo controlla crea un token ad artefatto che è una copia di esso, e perché scomba? Perché con 3blind mice crea un copio che è una copia di un token che controlli, e quindi se rendi questa un token si copia da sé per sempre, per sempre, finché non viene rimossa, e quindi questa è già una win condition, in più questo può rimbalzare Nightmare per far scartare, può rimbalzare Portento per fare un altro maialo, può rimbalzare Peddler per togliere un'altra carta dalla mano, e così via e così via, voglio giocare il Palantino perché mi ci piace, se no avrei messo altri Raddick, oppure due Sheholdred, non gioco Sheholdred, probabilmente decide magari una Shebobbe al posto di un countdown si può anche mettere, dai, non giocare Sheholdred a me mi sembra completamente, non mi sembra troppo greve, Farewell e GG infatti, perché gioco 4 dure se Liliana, in modo da rompere il cazzo alla gente con Farewell, un'altra cosa che rompe il cazzo è quelli che non scaricano Dice Dreams, perché Dice Dreams è lo sponsor di ottobre, usate il mio link in descrizione, il link nel commento pinnato, il link in chat su Twitch, per scaricare Dice Dreams sul vostro cellulare, lo scaricate 3 secondi e avete aiutato la gleba, non dovete raggiungere un livello particolare, non dovete fondamentalmente neanche per forza aprirlo e giocarci, basta il download. Raga, porco Dio, scaricate quel gioco di merda, vaffanculo, ve lo giuro, vengo, sono tornato solo per incazzarmi per questa cosa, veramente, scaricate Dice Dreams prima che mi venga una cazzo di sincope, ha ragione effettivamente, ha ragione, ha ragione, effettivamente ha ragione, abbiamo trovato, è stato ritrovato, Come ho detto, era in vacanza in Abruzzo, sono andato in Abruzzo a riprenderlo, era lì che mangiava gli rosticini e scopava le fighe, male sto mulligan, veniamo! Tazzo, questo è forte, madonna, arriva che è 6.000-6.000, ecco il fladdino subito, bello il miglio. Fate sempre la popò, mattina prima di uscire, perché fare popò ti rende tutto più belle, i giorni passano più felici, ti senti più leggeri. Fai la popò, che ti senti meglio, ti senti un po' più vicino al Cristo, ti senti più vicino a lo spirit, ti senti più vicino a Budde, ti senti più vicino a Odine e a tutti quanti, quelli lì che fanno le feste lassù nel mondo dei dèi. Fai cacca mattina che è bello, bello, bello. Grazie Epistrano. E Timur Lontre. What? Timur Adventures. Io mi sa che sono Mardu Terre. Madonna, te lo giuro. Piccolo 7-7 World 2. 8-8. Dai, non è vero, non è successo. Evviva! Allora, Cutdown, Sunfall, Boruto, Shieldred. Tolgo i scartini. Vedo le Roni, rischio di dargli più aggressione di quella che già non ha. Ah, Dick, è un 4-4 che non fa niente. Onto. Assurdo. Assurdo. Non sono tante, magari 25. Sono il minimo per un Midland. Ok, abbiamo il combo. Devo solo pescare due terre. No, una terre. Abbiamo la combo invincibile. Eh, Ugo e il Tartarugo è una bella carta, sì. Anche me l'andrebbe provata. Guarda che ora non pesco la terra, eh. Guardalo, eh. Ah, questa prima va tolta, però. Posso usare il mana correttamente. Va bene. Topino. Si, faccio vedere la combo a chi non la conosce. Mi rompe i coglioni. Mi fa bosei giù. Non c'è bosei. No, bro. Fammela fare, mannaggia. Me la devi far fare, però. Me l'hanno giocata contro i standard. È possibile? No. Non c'è la carta per farla in standard. Oh, po' infame che rovina il content. Veramente. Già che non ha fatto turno uno coniglio, mi sento l'apprendisto. No, c'è il blu. Potrebbe avere anche show up, non mi fido. Scusa. Cucino ha vinto l'iPhone 18, vero? Sì, sì, anch'io, anch'io. Vinto l'iPhone 15. Oia. Oia. No, non lo scarto il bivacco. Uso il tesoro. Ah, mi serve il Dolmager. No. Purtento porcinto. Incinto. Quanto carri ha il Crucianis. Infatti, io l'ho vista la versione di Alterax con l'esper di questo mazzo. Minchia Cruciani. Infatti, questa versione è molto più simile a quella iniziale che fece Crocates. Io, è quello il discorso. Perché io non dovrei giocare a Crucianis? C'è un motivo nel mondo per cui io non dovrei giocare a Crucianis? Oh. Lesser. Provato. Eh, no, non c'è Orchetti. Eh, è quello il discorso. Poi, è che lì. Nell'esper c'è Rusco. Ma il Rusco cosa dà, questo mazzo? Scusate. Ci vuole un botto per pescare con il Rusco. Ci vuole veramente troppo. Lucia se è più immediato. Beh, sì, tecnicamente hanno sbannato Crucianis. Con il Nerf di Orchetti. Oh. Vabbè, pescatra è forte comunque, eh. Però hai perso. Mi tira la sonde. Eh, vinto. Non serve nemmeno la combo. Basta Crucianis per vincere le partite di match. Let's gooo. Let's gooo. Check, loghi. Tu lo sai che non giochi. Quando corri contro di me, cadi e ti sloghi. Bello sarà il caso che sloggi. Da questa loggia, da questo giorno, oggi. Guardami con i tuoi occhi. Ho sbagliato. Tu lo sai, con il freestyle non ho mai sbagliato. Ho ripetuto una parola. Dove mi andavo a scuola. Da piccolino. Ho la combo. Tu lo sai, ti trombo. Bello il bivaccone, eh. Con l'artwork bivaccone. Ed le roni. Madonna, quanto odio alla mano fa questo mazzo. L'art bivaccone è bella. Mazzo nutelloso anche questo del nostro avversario. Naya Speranze. Però magari stavolta riusciamo a far vedere la combo. Ok. Eeeh, pronti. It's combo time. Dollmaker. Va. Ritorna. Rifa un altro topino. Uno dopo, te copi un tuo token. E il token che copi, invece di essere il topo, sarà di nuovo tripland mice. L'ultimo Cercilio. Vabbè. Così. Ora posso fare. Dollmaker. Dove c'è da due qui? Niente. Ma quella è che fa troppo valore. Qua. Stessa cosa. Rientra, riscarta, rifa danno. E ora, dal prossimo turno iniziano a prendere più uno più uno e vigilance a stecca. Ah no, tra due turni, scusa. La combo stand la puoi fare con Kalix, credo. Questa cosa la puoi fare con Kalix in, in Selesnia. Bello che ovviamente tutti vogliono spaccare Dollmaker, ma Dollmaker quasi non serve a un cazzo, subito poco dopo. Uh, buono. Buono, inizia a girarca, cazzo me frega. Eh, niente. Se non te lo... Se non ti fanno esattamente questa carta, vai infinito. Già. Allora, amodetto. Scartino serve a poco, contro contro aggro. Anche peddler. Eh ladro, se sabbavi la sentivi, no, scherzo. Eh, si può fare con Kalix la combo. Sì. Si può fare con Kalix. Però è più difficile dal punto che devi connettere con Kalix. Però si può fare. Quindi chiaramente si può fare anche in Alchemy con Kalix. Cioè puoi fare... Selesnia. Madonna, che money. Improvvisamente è una mano interessante. Sicuramente è una mano di valore. No, le pubblicità non escono tutte nello stesso momento. Le pubblicità riguardano il tuo watch time? Credo quelle di Twitch. Le mie escono nel momento fisso. Le Twitch ti arrivano a te ovunque tu sia. Se Twitch ha deciso che il tuo account in quel momento deve vedere una pubblicità, la vedi anche se sei sub. È per quello che a volte vedi la pubblicità anche da sub. Perché non importa su che canale sei. Capito? Cioè, se puoi essere in quel momento sul mio canale dove sei sub o sul canale di un altro non sub e la vedresti uguale per la pubblicità. Perché è tua. Colore smalto indaco. Non è smalto è gel. E qui l'ho rigata. Mannaggia Gesù. E mi attento che tra poco me le tolgo. Perché hanno già la ricrescita. A me mi crescano troppo lunghe le unghie. Ho voluto provare. Ho visto che mi stanno bene. Ho visto che mi piacciono. Ho visto che... Peraltro nessuno mi rompe il cazzo. Un giorno ci sarà un'occasione particolare figa che mi voglio rifare lunghe e me le rifaccio. Ora me le tolgo perché tanto poi appena mi cresca andà fastidio. Mi conosco. Millie. E' danno. Io amo il palantir. Proprio io amo alla follia il palantir. Il palantir Delmo come ti permetti di offendere mia madre palla? Eh scusami. Il palantir. No. Ho appena detto che amo la palla e me la togli. Classico uomo italiano bi like. Gli togli la palla si offende. Dai do il maker. Do il maker ho vinto. Su. E va bene lo faccio comunque. C'ho tre turni. Un po' freddo. Are you talking about castrazione? No. I'm talking about pallone. Il gioco del pallone. Però anche quello si offende. Io credo che se un uomo gli togli le palle senza chiederlo penso si offende. No. Topino. No. 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 Nel senso Se te ti svegli e ti hanno tolto una palla Ti incazzi Presumo Sto in upkeep Perché voglio fare Voglio utilizzare questa cosa Tanto per scudo il maker Sono più forte del mondo Un po' fascista Un po' fascista Non mi permetti di esprimermi E di fare le cose E di avere la mia libertà di pensiero e di gioco Se è un po' facile Ciao Diciamo Un po' Questa cosa è molto forte Mi piace vedere la gente con mazzi Nutella Ma con un senso Bello come siete tutti sotto tesi In questo periodo Tutti Triggero Scusa se voglio avere un futuro Mica faccio lo streamer Scusa se guadagno con uno sponsor di un'ora la tua retta annuale Non è vero poi Era solo per fare tanta attività Magari Dario Moccia Io no No ragazzi non è vero Però passo per il ricco spocchioso Era per rispondere male a lui che insultava gli stream No ragazzi Ma quando l'ha scritto? Apri Ho perso? No Sì vabbè Ok A lungo termine sì Non adesso sicuramente Comunque non è vero amore Anche te Te puoi guadagnare molto di più Da un momento all'altro Boom Promozione Raddoppiato lo stipendio Io no Io per raddoppiarmi lo stipendio Devo fare I salti Trimortali Immortale Bello sto terra Into terra Into terra Into terra Chiaramente basta uccidere il capo Esatto Diventi il capo Come i re Una volta bastava uccidere il re E diventavi re Mi sono là di eri dove c'è Ricordatevi il cartarugo Mi è massimo mi piace tanto Possiamo farlo Dei diventi best of one standard Sì Sì Logare in best of one è forno Morti E' ricordato il bivacco Ok ora basta pescare una terra meno Non è che più sbaglio Non ho messo i 27 Non me ne so No no Sono le classiche 25 del mid Ragazzi Incredibile Anzi addirittura ne gioca 25 Anche la lista S Perché gioca anche Rusco E Rusco dà una terra Tecnicamente Quindi Sto giocando anche Tecnicamente Meno della versione Esper Così Solo perché gioco Crucius E che dovresti vedere Crucius Per buttarle via Le serie nel chest Ma il bello è che comunque C'è anche questa concezione Dello streamer Un po' come OnlyFans No La gente pensa Ok da domani faccio lo streamer Allora dopo guadagno Dimani apro OnlyFans Allora divento ricco Mercato saturo Si inizia a streamare Allora dal niente Rimani con 4 persone Per tutta la vita Opo Ovviamente Sul telegram Trovate gratis I piedi del pirrone Posso bene ricordarlo ogni tanto Punto schiamativo telegram Ti direi Basta chiedere ai miei amici Per avere più di 4 spectra Ma non ho 4 amici Per metterlo in terra Fastidio Grosso fastidio Sì Sì Le amici al pesto Li puoi fare Scruciacchio Questa me ne basta una Mi tengo a removal Lesser Ma è vero Nel 23 ottobre Se erai fuori dal meazzo Ad aspettarmi Sì No Ho provato a mentire Non ce la faccio Sono troppo onesto Alex Delmosed Dovrei fare Dovrei farla Delmosed È vero Oh no Un lifelink Il pesca 2 Eh la devo far fare a Silvia Come ho detto Devo riusare Silvia Per un emote Non so quale Posso fare O Delmosed O Delmoeppy Delmopog Anche C'è Delmogod Ma non c'è Delmopog Volete battere Questa combo Io ve lo sto facendo Per farvela vedere Se volete battere Questa combo Giocate Jand con Jarsil E Might No Jojo è Jojo Non si tocca Ragazzi Toscanello Per i 32 Stupidi Fottuti Bastardi Mesi Un po' troppo Esatto Sì Poi Poi arriverò Anche a fare Quelle cose lì Ora non ce n'è bisogno Facciamo una versione Jund anti-maiali No Non ho fatto Jund anti-meta reale Il meta reale È tanto Incantesimoso Distruggere incantesimi artefatti È il top In questo momento Devo portare più bassa possibile Per vincere di Di Enzo Lorenzo Asciugamano Asciugamano Luglio Agosto Poi 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 Donami le pesche Le banane fresche E faremo splash Voglio un drop a 5 In questo mazzo Cosa mettiamo? Bisogna un drop a 5 Ragazzi Devo valorizzare Crucius Che scarta al 4 Per forza La mano Virtue Mi fa Sia da drop a 2 Nel caso E che Crucius Sti scartando un portento Mi prende la Virtue E posso snowballare Ancora di più Mi ci piace Ci sta Ci sta Ci sta Ottimo Gercu Trovo spesso Gercu Oh Oh Ah questo è il famoso Monoblue Porchiddy Forte Vediamo World 2 è tantissimo Giochi anello o non giochi palantire e viceversa Cazzo Fini che mazzo giocherai sabato Molto probabile Golgari Devo farglielo sacco il counter Se no non posso togliere le fatine Va bene Qua in terra non vedo questo token Eh porchidio Andata Niente fatina Fatina Pinta Succinante start Cavale Grazie a tutti Grazie a tutti Sanfon non passa Grazie a tutti Ciao Proviamo Companion Godoooooo Va bene così il counter Ma non capisco il verde Ah è solo per il Vinestalk Solo per avere la Melland Devi finire Ah non l'ho barganata però Combattere Sirge Sì ma il mana Porco due Carte completamente morte Se avessi quattro mana Sto per triggerare forte eh Terra Bisogna di una terra Dio madonna una terra Una terra Qualsiasi Stappata Puttana dio Cristo Ma non ci voglio credere No non ce l'ho Non ci voglio credere Non ci ho voluto credere Non ci credo Non ci credo Oltre il danno la beffa Cioè proprio Oltre il danno la beffa Ah ok Calmi 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 Il fulgenzio Fortissimo Non ci vediamo non eravamo dai sdreams se no non posso interagire al trigger della terra ok si è incredibile la quantità di merda riesco a pescare con questo mazzo è fuori di terra allora c'è il cruciani che è la carta più forte del gioco vinciamo piglia 5 piglia 5 che palantir non fa schifo va buono la ballista è uscita? si è uscita l'ho già recensita certo nulla vediamo se prende altri 7 danni no stavolta me l'ha pescata c'hai il cago eh il palantir è troppo forte quando hop è sotto 10 punti vita il palantir diventa infinitamente forte proprio troppo allora colgari midrange piglia una sunfall e bolt colgo uno stacca bassa un po' la combo si devo entrare un po' più in control laddick mi sa che invece contro midrini già sto bene ma si mi metto solo giusto un paio di rimuvali in più non tolgo la combo tolgo le scartine non tolgo il combo tolgo gli scardi gli scardi in avia sto gli scardi in avia io che scardo prendo le carte le scardo gli scardi in avia qui funziona funziona così che praticamente gli scardi in avia e le carte della gente le scardi gli scardi in avia comunque te dici no beh è bello faccio un chi ha due carte fai la combo facile vince così sì ma non le vedi mai insieme mai infatti io sto quasi pensando di farlo up però non è una combo che vince sullo spot quindi no ok allora è bello Questa va tolta Allora io rimuovo tutto finché non pisco la combo GG, questa è l'idea Eeeh, seppiolinea però Oh, forte E devo togliere il piedemoccio Devo togliere tutto, devo togliere Oh minchia, sei anni c'è voluto Finalmente, Avengers Assemble, basta Oh 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 Ok, vediamo Noni no Occhi per lui Se non muoio ora 4, 5, 6, 7, 8 Just'ai Perza Un po' ha sfungato duro Cambiato idea, c'è tanta roba da rimuovere con cut down Che col porcino Che virtio si può togliere Meglio togliere il virtio, così mi assicuro il Sunfall E' una manissima, ma è una mano Oh mamma mia, via, 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 via Eh niente, sto fermo, se no me lo spacco Ah Volevi Il bivacco Non è facile così Non è facile, ragazzi Non è facile Non è facile E niente Insisto Andiamo a far race con le terre Ok, who's telling me what else for the dog? cosa succede? si torna full ok persa per persa ho voluto fare questa cosa per capire io posso giocare un planeswalker svuotarlo di come si dice? di loyalty e poi torna full curioso è santo mmmm